Lo scambio tra Micoli e Di Bala, ancora Micoli, aspetta l'inserimento, poi Di Bala porta a vuoto il gol di Paolo Di Bala. Un minuto dopo, ancora un gol per questo giovanissimo argentino che già sta facendo impazzine Palermo. Certo da un punto di vista estetico, non è paragonabile al gol messo a segno nell'ultima uscita, ma in termini realizzativi e numerici, ancora un gol e si può dire che questo è un centro tutto argentino perché l'assist è arrivato da Nico Bertolo. A Nino mettono in mostra il nuovo gioiello argentino Paolo Di Bala, un'amichevole cominciata con la doppietta di Micoli che poi regala anche l'assist a Bertolo e con l'altra doppietta del nuovo arrivato Vasquez, 6-0 alla Val Venosta e con Di Bala è lecito sognare per tutta Palermo.